buongiorno sono in treno prima destinazione a badia lariana aspetta che saluto dall'altro finestrino che felicità che felicità posso salutare con un fazzoletto come una volta che più romantico ecco pesco guardate la bacheca e la prima stazione dopo l'ecco denominata badia lariana devo dire che venivo sempre qua poi mi piace perché c'è la vasca coi pesciolini che a boccheggiano boccheggiano la vita la vita che se ne va in un soffio di eternità dove la mia percorrenza è solo il treno come vedete da questa locomotiva io sono la sala prima stazione che inizia la sponda lecchese ecco che sta passando un treno eccolo eccolo ma guardate dove sono tuttora mi piace la proiezione sempre dell'occhio visivo riguardo i treni dove la percorribilità del viaggio è la mia esistenza aldo aldo